e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi finalmente siamo tornati con la serie di GTA 5 in modo video reale su PS4 ragazzi nello scorso episodio siamo andati in vacanza vabbè una vacanza abbastanza ironica possiamo dire perchè la vera vacanza verrà oggi perchè andremo al mare ragazzi come vedete nello scorso episodio questa estate fa molto caldo quindi oggi ce la meritiamo una bella giornata al mare niente ragazzi io non vi faccio perdere altro tempo buona visione allora eccoci qui abbiamo la moto allora io direi già di salutare questi fatti dalla reception allora ciao ragazzi gentilissimi grazie per averci fatto il dono nottale niente io vi saluto ci vediamo alla prossima bella ok buon viaggio stiamo partendo di notte credo che arriveremo domani mattina al mare e niente intanto vediamo dove dobbiamo andare allora io direi che andare verso questi posti quindi andiamo verso qui ok ok ci aspettano un bel tragitto da fare oggi ho in mente di fare un po' non so può darsi che andremo un po' con i motoscafi qualcosa ce l'inventeremo ora vediamo pure la spiaggia migliore che c'è ma semmai sono pure a pagamento vediamo perché con il covid non ci sia vabbè ragazzi qua di strada ce n'è ancora tanto da fare noi ci vediamo direttamente in spiaggia e non so se ci renderemo un costume ora vediamo perché attualmente non credo che io abbia un costume andiamo a vedere dai ok ci dovremmo essere quasi dovrebbe essere qui all'angolo allora andiamo a vedere ok si ci trovo qui raccheggiamo ok perfetto andiamo salve salve allora sono qui per vedere se c'è non so un costume avete dei costumi da bagno per la spiaggia ok ok allora vado a vedere ok costume acquistato ho comprato questo qui ora vabbè andiamo in spiaggia e niente dovrebbe essere abbastanza vicino alla spiaggia comunque ho capito dovrebbe essere tipo qua andiamo a vedere dai in spiaggia siamo arrivati ma non è una delle migliori giornate da stare in spiaggia vabbè mi sa che qua abbiamo il bagno per fare la giornata ah no forse è perché è l'alba vabbè dai sono tutto problematico l'abbiamo capito dai allora parcheggiamo parcheggiamo qui va benissimo dovremmo essere i primi non vedo altre persone allora poi andiamo a vedere se si possono affettare dei motoskai ora andiamo a vedere intanto togliamo subito questa maglietta e voilà eccoci qui allora intanto è arrivata anche un po' di gente la nebbia se ne è andata ora è un po' più tardi allora andiamo a vedere dove si possono affettare queste barche queste scapoli vediamo intanto non credo che abitavano i gaser ok eccoci qui ecco è il nostro è il nostro ora ora abbiamo il nuovo scapolo oh che bello passiamo nelle onde oddio dai attento a non morire pure qua poi stai nell'acqua almeno teniamo sempre d'occhio la riva e non allontanarci troppo ok e direi di andare verso quella zona lì andiamo a vedere cosa c'è allora ci parcheggiamo qui andiamo ok arriva arriva tu sei qua ok mi sa che ho perso la barca ma in compenso ho trovato questi ok mo si che ci divertiamo wow no vabbè bellissimi ehi ciao amico ciao ragazzi poi dite i miei commenti anche che episodi vi potrebbero piacere aspettatevi nuovi episodi della vita reale su PS4 consigliatemi altri episodi nei commenti che ne sarei molto grado ragazzi se vi è piaciuto questo episodio io vi do lasciare un like iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto attivate la campanella per non prendervi un mio singolo video neanche uno venendo per perdere condividete il video con tutti i vostri amici riposto su instagram da 297 al fino a basso youtube niente ragazzi anche questo video è già al termine noi ci vediamo il prossimo giorno con un prossimo video ciao ah e vi saluto anche questo uomo qua è un po' fuori legge sì lo so ma purtroppo è il suo stile oh guarda che ci sono ancora ma lascia like oh guarda che ci sono ancora